Un incontro urgente a Roma con i vertici del governo centrale è quello che chiedono i sindacalisti regionali di Cisas, Cisal e Sinalv che da tempo si stanno occupando della crisi occupazionale delle guardie giurate afferenti al gruppo Ipervigile gestito dalle famiglie Paolino e De Santis di Nocera Inferiore. Una lunga nota esplicativa è stata inviata ieri a Roma e per conoscenza alle istituzioni locali firmata dai rappresentanti sindacali che stanno portando avanti la battaglia dei lavoratori Ipervigile e cioè Lucia Pagano, Giuseppe Cucurullo e Salvatore Milillo. Hanno scritto la missiva al Presidente della Camera, del Senato, ai Ministri dello Sviluppo Economico, del Lavoro, Politiche Sociali e dell'Interno per porre in evidenza la situazione in cui versano i dipendenti del gruppo. Dopo i ripetuti incontri tenutesi alla Prefettura di Salerno, i sindacati hanno evidenziato la drammatica situazione che stanno affrontando le centinaia di lavoratori e le loro famiglie ovviamente che sono offerenti praticamente allo stesso gruppo imprenditoriale imperante da tempo nel settore della vigilanza con sigle varie, Ipervigile, BSK, Astuto, Working, Vigilanza Italia, HDSV e Ariete. Adesso i sindacati, dopo varie proteste, compreso il sit-in all'uscita autostradale di Nocera Inferiore, chiedono di più, chiedono a gran voce che la vicenda arrivi nel palazzo che conta, quello del governo a Roma. Nella lettera i sindacati tracciano una cronistoria di quanto avvenuto negli ultimi mesi nelle varie aziende dell'Ipervigile di Nocera Inferiore, in particolare con la licenza sospesa dalla Prefettura, con società poste in liquidazione volontaria e l'avvio di licenziamenti collettivi e con i dipendenti che debbono ancora riscuotere tre mensilità progresse e la tredicesima mensilità oltre al trattamento di fine rapporto. Dipendenti che sono in assemblea permanente dal 17 dicembre scorso, che hanno trascorso tutte le feste al freddo davanti ai cancelli dell'ormai defunta azienda. Stessa situazione per le guardie giurate dell'Ipervigile di Avellino. E poi la BSK, che invece è stata colpita da provvedimento cautelare della Banca d'Italia, con divieto di remissione di banconote e conseguente perdita dei servizi di contazione, movimentazione e trasporto dei valori. La astuto, con i lavoratori senza stipendio da quattro mesi, la working, dove 60 unità, dopo la cassa integrazione, sono state poste in mobilità. La riete, con i dipendenti che non percepiscono stipendio da giugno, la vigilanza Italia di Gragnano, con la mobilità chiesta per tutti e 68 i dipendenti, fino ad arrivare alla HDSV, con notizie frammentarie sulla stessa e l'unica certezza è che i lavoratori non percepiscono da tempo lo stipendio. I sindacati adesso si aspettano di essere ricevuti a Roma per ristabilire innanzitutto la legalità nel settore, per scongiurare eventuali incontrollabili gesti, si scrivono di disperazione e porre quindi fine a tanti, troppi suicidi dei lavoratori dipendenti del settore della vigilanza privata che vanno ad aggiungersi a quelli purtroppo caduti in servizio.